Sarà il San Salvatore Selargius, il prossimo avversario, dalla palla Canestro Nuoro nella nonna giornata di andata del campionato regionale di Serie D di basket. L'incontro è in programma domenica alle 18 nella palestra Cuni di Via Lazio. Per Sirbone sarà l'occasione per tentare di conquistare la prima vittoria stagionale tra le Muramiche e lasciare l'ultimo posto del girone agli avversari. Infatti il San Salvatore Selargius e la palla Canestro Nuoro al momento condividono la posizione di fanalino di coda della classifica. I nuoresi sono riduci dalla sconfitta rimediata fuori casa col punteggio di 84-73 contro la Vitalis Sangavino. L'unica vittoria a finora conquistata dai nuoresi è arrivata sul campo della basket 2016 Coral Alguero nella quarta giornata col punteggio di 85-80. Un successo ottenuto contro una formazione che oggi navica nelle prime posizioni della classifica. Ma la palla Canestro Nuoro ha dimostrato anche contro altre formazioni di valore di potersela giocare fino alla fine come accaduto contro il Cus Sassari. Gara terminata col punteggio di 68-67 per gli universitari. Da qui la voglia di dare una svolta al campionato ottenendo i primi due punti casalinghi contro una squadra che è ampiamente alla portata dei nuoresi. Per il Sir Bones sarà importante sbloccarsi nel parcheggio di casa con una vittoria che potrebbe dare fiducia a tutto l'ambiente. L'obiettivo societario rimane quello di valorizzare i talenti del settore giovanile e in quest'ottica è stata impostata la stagione. Ma le vittorie, al di là dei punti in classifica che assegnano, servono per certificare la bontà del lavoro fin qua svolto dallo staff tecnico.